Buongiorno, buon martedì si apre l'edicola di 8 Channel. Siamo pronti con tutti i quotidiani per avere la panoramica sulle notizie del giorno. Partiamo subito dalla Roma che titola sullo sport, sull'addio allo scudetto. Guardiamo insieme, guardiamo i giocatori del Napoli a Franti in questa foto da prima pagina, solo un pari per il Napoli con la Roma e il distacco dalle milanesi aumenta in B, intanto il Benevento travolge il Pordenone. Quindi apertura ampia, apertura dedicata allo sport, ma nel primo piano a pagina 2 c'è la battaglia in Ucraina che si sposta nel Donbass. Il Cremlino prepara l'offensiva, bombardamenti senza sosta su Leopoli. Intanto finora 5.000 bambini deportati dalla regione di Mariupol in Russia. Continuiamo a sfogliare in Roma, seconda pagina del primo piano, la curva dei ricoveri che risale intanto Draghi, positivo al coronavirus, salta le visite in Angola e nel Congo. Vedete, sono oltre 18.000 i casi di Covid, che vede in ascesa anche le ospedalizzazioni. Il tasso di positività schizza al 22%, ma è influenzato dal basso numero di tamponi. Ma vediamo proprio come va la situazione epidemiologica in Campania. Nel prossimo servizio abbiamo ascoltato anche il Presidente dell'Ordine dei Medici di Avellino che, un po' come i suoi colleghi delle altre province, predica cautela. Ricorda proprio come la variante Omicron, le sue sottomutazioni, siano ormai scatenate. Cala di netto il numero dei tamponi aumenta l'indice di contagio da Covid in Campania. Secondo il bollettino di oggi, sono 1.946 nuovi positivi al coronavirus, sotto 1.502 test esaminati. Ieri il tasso di contagio era pari al 12,2%. Oggi sale al 22,88%. Aumenta lievemente il numero dei ricoveri in terapia intensiva. Intanto il Presidente dell'Ordine dei Medici di Avellino, Francesco Sellitto, predica cautela e spiega come i dati saranno ancor più in risalita proprio in virtù dei ritrovi di Pasqua e Pasquetta. Io non prevedo nulla di buono. Pasqua e Pasquetta porteranno fra qualche giorno sicuramente un'impennata dei casi. Tra l'altro stiamo andando tutti senza mascheria. Quindi il problema diventerà ulteriormente serio. Noi siamo stati la prima provincia d'Italia per quanto riguarda il numero di casi per 100.000 abitanti. Credo che non ci discuteremo molto da questa previsione. Secondo l'esperto, la variante Omicron ormai è scatenata, soprattutto tra i giovani. Vediamo molti studenti che a scuola prendono il virus e poi lo portano a casa. Chiaramente, siccome l'Ordine è molto diffusiva, abbiamo intere famiglie che si stanno ammalando. 145 positivi in Irpinia su 468 tamponi processati. Intanto al Sampio è morto nelle scorse ore un uomo di Morcone di 92 anni. Situazione stabile nel Salernitano. Intanto, Ucraino ha ammazzato a coltellate. Andiamo a Pastorano e c'è questo caso di cronaca. Fermato un connazionale, forse i fumi dell'alcol, poi una lite lo avrebbe colpito dopo una pesante lite. Il corpo della vittima in un container, l'aggressore bloccato dai carabinieri. Città d'arte piene, gite fuori porta, boom di visitatori anche alla regia di Caserta per Pasqua e lunedì dell'Angelo. Iniziamo proprio a vedere i piccoli, ma anche grandi, straordinari segnali di ripresa dopo il coronavirus. Clan Partenio, quelle pericolose spallate alla cosa pubblica. Incontro a Palazzo Paolo VI di Avellino con il Gal Tammaro e Titerno. Vediamo cosa sta succedendo. Andiamo ad Avellino, vedete anche le pagine che riguardano ovviamente la cronaca. La morsa tentacolare del clan ha messo le mani sugli affari pubblici, distrugge i patrimoni, rovina l'imprenditoria. Si affianca ai colletti bianchi, alla gente insospettabile fa affari. Quindi questo excursus che attraversa quelle che sono state le vicende del clan Partenio. Poi ancora vedete l'arte in 3D, in realtà aumentata dentro l'impossibile. Ancora bene vento, andiamo avanti. Seconda pagina, rifiuti a Persano, scontro provincia comune, quindi carrellata anche su Salerno. E poi amministrative strappo nel PD, Mennino, sconfessa, pizza. Queste le notizie dal Roma che attraversano un po' tutte le province. Ma adesso torniamo sulle notizie internazionali. Guardiamo insieme l'apertura di Repubblica con la doppia battaglia. Vedete la foto di questo carro armato, la lotta che continua, la guerra sanguinaria che va avanti. Mariupol non si arrende e tiene aperto il secondo fronte dei russi, mentre inizia l'offensiva e tenaglia nel Donbass. Missili su Leopoli per colpire depositi di armi. Fermare il fascista del Cremlino è l'appello condiviso. Poi una notizia ancora del lutto di Cristiano Ronaldo che perde un figlio alla nascita, uno dei due gemelli. Andiamo avanti con il primo piano. Mariupol non cade. Gli ucraini tentano di aggredire i nemici. Il battaglione Azov, asserraiato nell'acciaieria con mille civili, riesce ancora a contrattaccare. Il capo dei Marines scrive al Papa, aiutaci. La resistenza ad oltranza per rallentare le armi di Mosca. Mosca intanto, vedete, esibisce due prigionieri inglesi in TV. Condagniamo la strumentalizzazione di prigionieri di guerra per scopi politici. Reagisce così l'amministrazione, il governo inglese, che risponde all'esibizione dei due prigionieri inglesi in TV catturati dalle truppe di Mosca nella battaglia di Mariupol. Continuiamo a sfogliare la Repubblica. Putin è un fascista in guerra con l'Europa. Siete tutti in pericoli. Parla l'ex premier, imprenditrice del gas. È stata per due volte premier, fu protagonista della rivoluzione arancione. Ancora, il Cremlino. Putin minimizza l'effetto sanzioni e i suoi dissentono. La governatrice della Banca Centrale dice cambiamenti strutturali. Il presidente della Corte dei Conti rublo non più convertibile. Quindi la morsa delle sanzioni comincia a sortire su effetti, comincia a scricchiolare quello che è il sistema di governance e supporto allo zar. Ancora, Draghi al Covid. Vi accennavo prima sfogliando in Roma, in Africa per il tour del gas andrà a Di Maio. Perché quella che si gioca, quella che diventa essenziale, è la partita energetica. Andiamo avanti dalla Repubblica. Guardiamo insieme l'apertura del mattino. L'economia al collasso in Russia. La numero uno della Banca Centrale smentisce Putin. Andiamo all'interno. I due prigionieri inglesi in tv. E poi ancora, uomini e donne come topi. Noi al buio nei sotterriani. Vi raccontiamo la resistenza degli invisibili. A Zaporizia la vita nascosta di intere famiglie. Guardate come vivono. Ecco questo il volto underground, il volto sottoterra. Di come i civili in queste città sediate da carri armati e missili riescono a sopravvivere. A volte i russi entrano nelle case e raggiungono gli scantinati. Allora può succedere di tutto. Perché questo ovviamente avviene al buio. Al buio delle tv. Insomma, dei tanti cronisti stanno davvero raccontando, rischiando la vita in prima persona. a quello che accade. Non solo a Chievo, ma in tutta l'Ucraina. Economia in sofferenza. La governatrice che smentisce Vladimir guida la banca centrale e dice Siamo colpiti duramente. Putin no, blitz fallito. Gli Stati Uniti chiedono agli alleati un nuovo giro di vite contro la Russia. L'embargo fa male, ma non ha fondato il sistema dello zar. Vedete? L'inizio dell'invasione il 24 febbrario. L'Unione Europea, l'8 aprile, decide il quinto pacchetto di sanzioni che comprende import di carbone e accesso ai porti europei. Quindi questa scalata all'economia russa sortisce agli effetti sperati, ma che non sono comunque devastanti per un sistema economico così solido e che può contare su tante risorse come quello russo. Mariupol intanto è allo stremo. In 100.000 rischiano la vita, ma non saremo mai russi. Il sindaco, lo vedete, fu rapito per giorni. Ho subito torture psicologiche pesanti. La mia città aveva standard europei, adesso per metà è stata distrutta. Adesso dai giornali nazionali torniamo su quelli locali. Facciamo un focus sulla campagna. Partiamo da Napoli. Guardiamo insieme quali sono le notizie che riporta la Repubblica Napoli, che parla di una movida di sangue con due accoltellati in 15 contro uno. Ed è una guerra. Andiamo ad aprire insieme la Repubblica Napoli. Raid serale in piazza Trieste, Trento e Marano, vittime delle baby gang, un 14enne e un 16enne. In corso Umberto Vessillo con Ugo Russo. Durante la processione viene appunto esibito con il Vessillo di questo ragazzo. A Pasqua, omicidio davanti allo stadio. Un'apertura mista di cronaca che racconta cosa succede. Intanto, taglio alto, conti fuori controllo. L'Istituto Zooprofilattico avvisa in due anni tamponi per 30 milioni, maxi aumenti di stipendi e gestioni opache, gli sviluppi dell'inchiesta. Oltre 30 milioni di euro di tamponi eseguiti, in gran parte non sorretti da richieste dell'ASL. Tanto che ora la Regione si rifiuta di coprire tutto. Test molecolari affidati all'esecuzione di aziende private tramite contratti sospetti. Si stringe la morsa sull'Istituto Zooprofilattico di Porti. Ci andiamo avanti. La faida di fuorigrotta colpisce nelle feste. Ucciso davanti allo stadio dopo gli agguati di Natale e Capodanno, l'assassino di Sabato Santo, la vittima nel 2015 fu arrestata per droga. Continuiamo insieme a sfogliare il mattino di Napoli. Musei, la rivincita del bello, tutti in fila per i capolavori. E Cappella San Severo diventa la Superstrar. Ma intanto anche a Salerno le cose sono andate parecchio bene, tanti turisti. Una bella giornata, sole e battente. Il commercio, i ristoranti, i B&B, alberghi, insomma un po' tutto quello che è il comparto che ruota intorno al turismo ha finalmente visto concreti segnali di ripresa. Sara Butte. Pienone in Campania, Pasquetta da Record a Napoli che fa registrare folla ovunque, presi d'assalto, ristoranti e pizzerie, code agli imbarchi per le isole. Con Procida che grazie alla vetrina di Capitale della Cultura contende il primato a Ischia e Capri. Tutto esaurito nelle località di mare anche in costiera amalfitana e in Cilento. Dopo due anni di restrizione a causa del Covid-19, tanti ormai non indossano più le mascherine all'aperto e non vedevano l'ora di poter ricominciare a viaggiare in libertà. Finalmente dopo due anni possiamo ritornare a respirare. Se ci riusciamo vorremmo andare a Positano. Abbiamo scelto la costiera perché cerchiamo il sole. Lei da dove viene? Noi da Vigiano, provincia di Potenza. Siamo stati a Capri e adesso ci mancava Positano e siamo venuti. Da Mantea, provincia di Cosenza. Come mai la costiera? Come mai la Campania? Diciamo che è una bella meta, ci piace insomma dei posti. Vabbè, le isole sono fantastiche, Napoli pure mi piace. Dopo tanto tempo fermi, è un spettacolo, non ci sono parole. Andiamo ad Amalfi, siamo un gruppo, noi siamo della Basilicata e loro vengono da Palomonte, i nostri amici. La voglia di viaggiare, la voglia di vedere, la voglia di stare all'aria aperta soprattutto e anche vedere tanta gente, è bellissimo. Voliamo andare a Amalfi. Io dal nord Italia, lei da Londra. Positano e Amalfi, una giusta per fare Pasquetta. Andiamo ad andare a Positano a passare Pasquetta. Da noi c'è ancora brutto tempo, invece qua abbiamo trovato il sole. Da Roma. È la prima volta che veniamo. Facciamo di prendere un traghetto per Positano e facciamo un giro per Amalfi, maggiori, minori. Però c'è anche la vergogna dei parchi chiusi, vedete, visitatori beffati a Pasquetta, pasticce, ordinanze, tra allerta, meteo e motivi di sicurezza. Quindi a Napoli cosa succede? Che c'è pienone nei musei, ma Capodimonte, Floridiana e Villa Comunale sono off limits. Andiamo avanti. Sold out di Pasquetta. Sorrento batte la crisi e poi ancora di vieti e ingressi ridotti il pellegrinaggio post-Covid alla Madonna dell'Arco, dove sono tornati i fuienti ordinati, secondo appunto quelle che sono state le disposizioni di sicurezza, ma soprattutto appena 55 mila presenze rispetto alle 400 mila dell'epoca prepandemica, ma i fuienti finalmente sono potuti ritornare dalla loro Madonna dell'Arco. Continuiamo a sfogliare insieme i giornali, andiamo a vedere quali sono le notizie dell'altra città della costa. Andiamo a Salerno. Muore in ospedale, c'è l'inchiesta. La cronaca tragedia dopo l'incidente. Intanto la moglie, voglio giustizia per lui e per mia figlia. Sequestrate, salma e cartella clinica. Spirito, il re dei giocattoli ricoverato ad Avellino, il decesso prima dell'operazione. E poi ancora la Pasqua della Speranza, tanti turisti, zero trasporti, ma andiamo a vedere all'interno la vicenda del re dei giocattoli. E poi ancora il Forferi dei Giovanni, scelta folle da tifoso, eviti anche lui i conflitti. Lo scrittore non presenterà il suo libro a Salerno per i cori degli ultra-anti-Napoli. Gli intellettuali salernitani disapprovano. Lo amiamo, ma stavolta ha sbagliato. Quindi parlano gli intellettuali della cultura salernitana. Ancora, Francesco Morra, il tifo è una cosa, la cultura un'altra. Faccio a prevalere la forza del dialogo. Quindi appello allo scrittore dei Giovanni. Maturità, effetto pandemia, tra bocciature e abbandoni. Spariscono 1.287 candidati. La Dada ha accentuato la dispersione scolastica. Avevano iniziato il secondo anno nel 2019 e non riusciranno a diplomarsi nel 2023. Un vero e proprio allarme che riguarda il comparto formativo scolastico. Da Salerno il mattino, vediamo anche le cronache. Assunta Tartaglione, 5 ore in caserma, interrogatorio Fiume, sentita dalla finanza l'ex presidente del CDA. Ascoltata come persona informata dei fatti, porta infatti la sua firma alla relazione consegnata alla regione sullo stato di crisi dello SCABEC. Non è escluso che il PM di Mauro convocherà Antonio Bottiglieri. Quindi una vicenda su cui la procura vuole vedere molto molto chiaro. Andiamo avanti. Andiamo a vedere cosa succede in terra di lavoro. Andiamo a Caserta. La festa ritrovata. Un vero e proprio boom di visitatori anche alla reggia di Caserta che torna agli antichi splendori per numeri di presenze. Guardate la foto d'impatto. E poi ancora Caserta Vecchia che continua ad essere il gioiello di terra di lavoro. E la lite del container. Questo è il caso di cronaca del giorno di Pasquetta. Ucraino di 47 anni, ucciso a coltellate. Interrogato con nazionale custode di un canile. Che rispinge le accuse e dice che è stata una rapina. La tragedia a Pignataro Maggiore. E adesso ovviamente saranno gli inquirenti a fare chiarezza su questo grave fatto di cronaca. Ancora cronaca. Francesco è stato ucciso. Il suo cuore torna in Italia. L'appello della sorella Francesca. In Spagna l'ipotesi di omissioni. Svolta nell'inchiesta dopo due anni. Mio fratello pestato davanti ad una discoteca. Il ragazzo morto. Intanto ha indagato da sole il nome del legame indissolubile. Sua sorella Francesca. Che è andata nell'arcipelago delle Baleari. Per ricostruire l'accaduto sulla morte del suo adorato fratello. Quindi un caso di cronaca. Che sembra vedere finalmente la luce in fondo al tunnel. Adesso ci spostiamo nelle città dell'entroterra. E andiamo a vedere quello che succede nel Sagno. Il centro violato dai vandali. Ride vicino al teatro romano. Mastella. Si tratta di imbecilli. Se presi ripuliranno. I residenti chiedono più luci. Imbrattate piazze e mura. Nei pressi del sito con lo spray. Vedete anche la foto. Prese di mira anche le piante. Anche nel Sagno. Un vero e proprio assalto al locale. Agriturismo in città. Migliaia a Pietrelcina. Sulle tracce di San Pio. Quindi davvero il trade union dei giornali di oggi. E la netta ripresa proprio degli incassi del comparto turistico. Che complice la bella giornata. Hanno visto un vero e proprio successo. Proprio in tutte le zone della campagna. Agriturismo in ristoranti. Una pasquetta da sold out. Bene anche i musei. Nel capoluogo registrato il pienone. Gestori cauti. Copriamo solo le spese. Intanto. Bundi arrivi e traffico in tilt. Sul taburno. Vedete. E alla forre di Lavello. Poi migliaia sulle tracce di San Pio. Il sindaco dice sia l'inizio di una vera ripresa. Quindi tanto tanto entusiasmo. Per quanto sta succedendo in tante città della campagna. Tanti paesi. Tanti borghi. Segnali di ripresa che fanno ben sperare. Dal Sagno. Ci spostiamo in Irpinia. Rifiuti e guerra tra i partiti. La corsa per la provincia Transazione Dem boccia la gestione di Irpini Ambiente. I vertici renziani del lato intanto la difendono. Senza il passaggio da Palazzo Caracciolo a lente d'ambito la società rischia di perdere l'affidamento del servizio. Un vero e proprio nodo che da sciogliere resta sul tavolo. Proprio da risolvere nelle prossime ore. Intanto andiamo all'interno. Guardiamo anche le altre notizie. Dogana. Il primo step. Arrivano le risorse per dare una ripulita. Con 100 mila euro si prova a dare speranza. E la rimozione di erbaccio e spazzatura va in parallelo ovviamente con quello che è un progetto ormai necessario di restyling. Ma la notizia del giorno è quella della cronaca, la cronaca sul Partenio. 40 pecore uccise. Forse l'ipotesi è quella di un branco di cani in selvaticchite. Intanto oggi nella sede di Monteforte dell'Istituto Zooprofilattico di Portici si terrà l'autopsia sulle carcasse. Vediamo. Indagano i carabinieri forestali sulla strage di pecore avvenuta a Mercogliano in provincia di Avellino nella notte di Pasqua. Circa 40 le pecore morte. Un'altra ventina in gravi condizioni. E' questo lo scenario che si è presentato davanti agli occhi dei proprietari dell'allevamento ieri mattina. Potrebbero essere stati dei lupi oppure altri animali randaggi del Monte Partenio ad azzannare e uccidere le pecore. L'ipotesi più accreditata è quella dell'assalto di un branco di cani in selvaticchiti. Semplici ipotesi su cui indagano gli esperti. Saranno le analisi affidate dai carabinieri forestali all'Istituto Zooprofilattico di Portici a stabilirlo con esattezza. Oggi è atteso il trasferimento di alcune carcasse nella sede di Monteforte Irpino. Domani si terrà l'autopsia e partiranno le indagini di laboratorio. I medici veterinari potranno analizzare le ferite presenti sulle carcasse così da accertare quale sia stata la causa della morte degli ovini. Dopo il macabro rinvenimento in località Sant'Anna di Mercogliano, ieri mattina un viavai di persone è arrivato per manifestare vicinanza per l'accaduto. Un danno considerevole per i proprietari dell'allevamento vino. Ma torniamo a parlare del Covid perché in Irpinia si è pagato il tributo più alto in questi due giorni. Quattro vittime in 48 ore. Al Moscati, decessi di anziani residenti tra Montella, Mirabella, Andretta, cala il numero dei tamponi, il tasso di positività comunque resta sopra il 18%. Quarta dose, i over 80, si parte in tre hub, un passaggio cruciale per rinforzare, rimpolpare le difese contro il virus. Cancelli aperti ad Avellino, Ariano e Montoro in 27 mila compongono la platea locale di chi ha diritto alla quarta dose del vaccino. Quindi davvero un passaggio necessario per provare a fermare la lotta, la corsa del coronavirus anche in provincia di Avellino. Intanto da giornali cartacei ci spostiamo sulle notizie in tempo reale sul portale di 8pagine.it. Guardiamo insieme la prima pagina. Covid sale il tasso di positività in campagna ma crolla il numero dei tamponi. Quindi ovviamente sono numeri su cui bisogna andare cauti. E avevamo sentito proprio il Presidente dell'Ordine dei Medici di Avellino che dice pagheremo molto caro il prezzo di queste feste. Continuiamo a guardare insieme le varie aperture. Andiamo a Caserta. Guardiamo qual è l'apertura di Caserta. Torniamo indietro. Torniamo indietro sulla portale di 8pagine.it. Ecco qui. Torniamo sulla prima pagina di Caserta. Ecco la prima pagina di Caserta. Ucciso a coltellate in una roulotte. Tragedia nel casertano. E poi ancora la città di Caserta. Vedete verso una maggiore sostenibilità ambientale. Andiamo all'interno. L'assessore Gerardina Martino guarda con fiducia al futuro posto Covid. Quindi un'ampia intervista che racconta quella che è la ripresa di terra di lavoro. Da Caserta ci spostiamo nel Sannio. Il Benevento passeggia sul Pordenone per la diretta. È ancora tutto aperto. Ma soprattutto l'esultanza dei calciatori della strega che ieri hanno conquistato una importantissima vittoria fuori casa. Poi tornano i turisti per Pasquetta a Benevento. È una bella sorpresa. Ma vediamo come è andata questa lunga giornata di ripresa economica anche nel capoluogo Sannita e nella sua provincia. Tornano i turisti anche nel Sannio. Dopo due anni in pandemia la Pasquetta diventa l'occasione per trascorrere una giornata all'insegna di siti storico-culturali di Benevento. In tanti sono arrivati dalla vicina Puglia. Come dalla Sicilia le bellezze del capoluogo Sannita sembrano aver conquistato i visitatori. Una bellissima città. Mi piace tanto. È la prima volta. L'idea era quella di passare una domenica diversa, un sabato diverso, fare tutto il weekend qua. Benevento mi piace tutto. Dall'arco di Traiano siamo stati in Duomo, Santa Sofia, Ponte Reproso, l'arco del Sacramento. Il museo è bellissimo. Finora abbiamo visto la Rocca dei Rettori, il chiotro di Santa Sofia. Siamo andati a vedere il castello, le muzzo. Bellissimo. La storia è bellissima. Tutta la storia di Benevento, molto bella. A me è piaciuto tutto. E molti hanno scelto il sagno per fare tappa a Pietralcino e poi visitare la città a capoluogo. È da molto tempo che volevamo vedere Pietralcino. Siamo andati a Pietralcino, giustamente, e poi il centro storico e i musei. Siamo stati a Pietralcino e poi siamo venuti oggi qua a Benevento. Benevento mi ha meravigliato perché è una cittadina veramente ben denuta, ben curata. Ma con il ritorno dei visitatori in Essagno, Vincenzo Lombardi, del Dipartimento Turismo della Lega, denuncia la chiusura del parco geopaleontologico di Pietraroia e precisa. Assolutamente non è una polemica, è solo una semplice constatazione. Nel momento in cui finalmente ripartiamo, ma anche le aree interne sono ripartite, capita che un ente parco importantissimo, qual è quello appunto di Pietraroia, praticamente stamattina era chiuso. Abbiamo avuto delle segnalazioni da decine di turisti che erano lì. Abbiamo visto anche il bilancio del turismo nel Sagno. Da Benevento ci spostiamo a Napoli, vediamo a Napoli quali sono le notizie. PNRR, rigenerazione campagna in Napoli davanti a tutti per i fondi intercettati. Poi ancora video shock sui social, uomo trascinato dal branco in un cassonetto dei rifiuti, la denuncia del consigliere regionale dei Verdi, sentinella vigile sui fatti che accadono tra Napoli e provincia, ma non solo. Andiamo a Salerno, guardiamo cosa succede a Salerno. La morte del re dei giocattoli, sequestrata alla salma di Matteo Spirito. Una tragedia che attraversa proprio la storia dei decani, dell'imprenditoria e commercio salernitano. Lo storico commerciante è morto ad Avellino dopo un incidente in moto. Vogliono vederci chiaro i familiari e hanno appunto denunciato quanto accaduto. Intanto la salma del commerciante è stata sequestrata in attesa della autopsia dopo un primo ricovero a Ruggi. Era stato poi trasferito all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Da Salerno andiamo ad Avellino, guardiamo qual è l'apertura. Pasqua e Pasquetta, la Verda Irpinia vince, agriturismi e ristoranti pieni. Il bilancio di Confagricoltura, poi ancora Volturale, vedete la Piana del Dragone che diventa la grande scoperta per questa Pasquetta. Ma vediamo come sono andate le cose nel prossimo servizio a cura di Angelo Giuliani. È un buon bilancio quello della Pasquetta in Irpinia. Tanta voglia dei boschi del Terminio, dell'alto piano dell'Aceno e dei sentieri di Montevergine. Dalle prime ore del mattino è partito l'assalto ai caselli autostradali di Avellino Est ed Ovest. Turisti in arrivo soprattutto dal Napoletano. È stata una giornata di super lavoro per gli uomini della Polstrada, guidata dal comandante Alfredo Petriccione. Perché avete scelto l'Irpinia? Perché c'è tanto verde, aree picnic, ci divertiamo un po'. È perché comunque c'è molto verde e si sta bene, respirare è buono. A Ceno Beach, motorata, classica scampagnata. In campo anche i volontari della protezione civile per dare assistenza e rifocillare i vacanzieri. Facciamo assistenza in autostrada, diamo un po' di acqua, quello che serve. Anche sull'Ofantina qualche rallentamento, soprattutto all'altezza del viadotto Montechiupo, dove causa lavori il traffico è regolato da semafori. Sul raccordo code, in particolare allo svincolo di Serino. Andiamo a San Michele di Serino, dove abbiamo una casa e ci piace trascorrere qui la Pasquetta. Dove venite? Caimano. E dove andate? A Serino. Picnicco agriturismo? Agriturismo. Tutto esaurito per alberghi, ristoranti e agriturismi. Insomma, dopo due anni alle prese con la pandemia, era forte il desiderio di tornare a respirare il classico clima della scampagnata fuori porta. E come vi dicevo, c'è anche l'appello del Presidente dell'Ordine dei Medici a procedere con i vaccini perché ci sarà un'impennata dei casi, perché pagheremo i festeggiamenti di Pasqua e Pasquetta. Ancora, torniamo sulla prima pagina. Guardiamo cosa succede in prima pagina. Le notizie di punta del giorno. Abbiamo visto l'aumento dei contagi. Siamo al 22,88% per quello che concerne i numeri dei casi da Covid in Campania. E poi ancora scendiamo. Continuiamo a sfogliare insieme il primo piano. Maiori scivola lungo un sentiero, fa un volo di 4 metri, paura per un 19enne. L'intervento, davvero salva vita in questo lunedì di Pasquetta, puntualmente tornano questi percorsi a diventare rischi grossi per chi percorre questi sentieri. Secondo intervento per il soccorso alpino e speleologico in questo lunedì di Pasquetta, paura in costiera amalfitana, dove gli addetti sono stati allertati dal 118 per un giovane precipitato nei pressi di un sentiero a Maiori. Il ragazzo, 19 anni, di Salerno, stava trascorrendo la Pasquetta con un gruppo di amici nei pressi di alcuni rude, riescivolato e precipitato in un burrone per circa 4 metri. davvero tanta tensione, tanta paura. Torniamo sulla prima pagina di Salerno, la morte del re dei giocattoli. Ancora, Maiori abbiamo visto, dalla città delle bombe alla città della pace, Padrenzo Fortunato in Ucraina, di Scala, consegnato un carico di aiuti di prima necessità, raccolti in costiera amalfitana. Pasquetta, Campania, riabbraccia la Madonna della Neve e San Francesco, la storica processione nella città della Chiena, nell'Unidin Albis, vede una grande, grande partecipazione di fedeli per un momento liturgico che ha il sapore della fede, della tradizione e della tipicità. Ancora Salerno, vedete Santa Teresa, la spiaggia affollata, il boom di turisti che lascia ben sperare anche il capoluogo salernitano. E con questa notizia si chiude l'edicola di 8 Channel. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione. Alle 14 in punto con il TG News regionale e alle 14 e 30 con il TG Sport. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti.